bomba Salve a tutti ragazzi sono Gianmiki14 ben andato in questo unissimo video vlog del oggi è già mercoledì allora oggi voglio dirvi una cosa sono veramente euforico perchè in meno di un no vabbè un po' di ore tra ieri sera e stamattina 34 iscrizioni adesso non me lo ospita comunque non lo scrivo sotto i miei video io lo faccio e mi scrivo poi un'altra cosa ho dato una botta al mio playstation incredibile allora nel prossimo video che devo fare tipo voi fate la domanda e gli rispondo dovete scrivere una domanda scrivemi nei commenti con l'hashtag che poi vi dirò perchè adesso non mi viene in mente una domanda ma non sto facendo rumore una domanda una domanda per il prossimo video che dove rispondri quindi tanto ormai ci sono 34 iscritti almeno due che mi fanno una domanda ci devono essere e quindi questo poi un'altra cosa tra poco cioè forse oggi ho detto a mio padre che prende i cavi maledizione per registrare per connettere tutto il mondo e poi registrare fifa gta online e boh cose a caso e soprattutto gta online che in questo periodo sto giocando un bordel e faccio cose posso giocare insieme anche i miei compagni su playstation network che ci hanno mandato i richiesti di amicizia ranno poi su fifa mi sono fatto una bella squadretta aprendo i pacchetti natalizi che danno a chi ha la deluxe edition spenderò la mia 100 euro per fare un pack opening su fifa la metà dovrebbe essere 6 se non sbaglio facciamo 6.000 video per due video appunto e... non lo so ho mandato il modem ho mandato una televisione e mi sono fatto una postazione se così la possiamo chiamare nella mia stanza e che sono disturbato molto di meno perchè prima ero nel... nel soggiorno e non si capiva niente perchè ogni 5 minuti entrava qualcuno e questo quindi mi sono creato una bella postazione web computer tutte cose qua gioco online quindi se alcuni dei miei iscritti giocano sulla ps3 con l'online in generale io mi chiamo Klebitz quindi se volete inviarmi richieste d'amicizia intendo che tra 55 secondi la mia televisione si spegne ma lo faccio anche io forse porterò una nuova serie di un gioco horror ci sto pensando mi è venuto in mente adesso forse poi farò anche giochi mongoloidi ovviamente che mi portano al passato no che boh horror tipo quelli che fanno mi fanno praticamente morire perchè io quando giochi i giochi horror sto sempre due metri se non di più di distanza mi porto il mouse dietro e mi muovo perchè che io sto vicino e mi compare una cosa davanti e poi gridare comunque ripeto fatemi delle domande serie sotto i commenti perchè io nel prossimo video che io possa rispondere ehm l'altra cosa che ci sto pensando da tanto tempo ah su fifa il road to division one ovviamente sembra se ci riusciamo ehm però dopo il pack opening perchè poi c'è io ho un modo di giocare di merda questo lo devo dire perchè io gioco sul pressing alto e le azioni da mongoli vabbè poi su gta forse vi porterò delle sessioni di gioco incredibilmente epiche con i miei amici appunto del 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 playstation network non so i deathmatch a squadre delle gare e tutte queste cose cioè i programmi di youtube sono un video ogni totti di giorni ieri no quando è che è uscito il video che c'è non lo so manco io ehm cioè un totti di giorni no uno al giorno magari ma uno ogni due tre giorni almeno che non ho un calo proprio dell'esistenza lo porto una settimana dopo un altro video ma qui ci sono dettagli perchè io non ho proprio il tempo materiale di fare cose devo cominciare anche a studiare quindi lasciamo stare bro lasciamo stare che mia mamma già mi cominciava a dire ok quando vuoi studiare e no mamma allora devi capire che ho detto io o studio l'8 dato che si torna il 9 o il 7 ho detto ringrazio le persone che sotto l'hanno scritto sotto nei commenti ehm sotto nei commenti dello scorso video l'ho scritto ricambi scritto ricambi stica bel commentare dove ha scritto persone che non mi ricordo simon una cosa del genere non mi ricordo bene i nomi nel prossimo video ehm magari ringrazio alcune persone perchè adesso non mi ricordo che sto registrando comunque ehm su crash royal usciranno molti video che o è rotto arena 7 o è video a caso o boh volevo portarvi anche un ep ok che lo fanno già altri youtuber ma a me non me ne frega un cacchio volevo fare cioè voi consigliate un deck c'è proprio stupido che sia elisir 5.0 che sia proprio quelli con veramente l'elisir minore e perchè volevo fare un episodio tanto io non ho niente da perdere sul tavolo e tu che sul telefono ero arena 7 ero arena 7 ho trovato gigante royale e mega sg lasciamo stare e quindi non ho niente da perdere pure se faccio un mazzo tipo le truppe solo con i baffi o solo scheletri tipo la torre bombardiera lo scheletro gigante e questo ci ho provato da solo ma non ho abbastanza carte infatti abbastanza carte ho detto abbastanza carte non abbastanza carte infatti al posto delle carte che mi mancano metto la furia o la la fulmine la veleno e queste cose qua o cannone vabbè lasciamo stare e possiamo anche fare non lo so boh mhm se alcuni di voi giocano a criceroia non non voglio niente a creare un clan dove ci sono alcuni di voi cioè boh almeno fare amichevoli pure registrando oppure no però comunque a fare un clan penso che alcuni di voi giocano a criceroia perchè chi non gioca a criceroia boh nessuno c'è chi ha poi ognuno ha sui gusti che può dire no è una merda e non è il mio caso fortunatamente perchè già all'inizio io lo odiavo ma poi boh ho avuto proprio l'illuminazione come se uno nella stanza buia accende la luce e e quindi questo volevo solo dire una cosa mi ho detto grazie perchè domanda 4 visual e di più in un video in poco tempo e 4 iscritti 35 quanti cacchio sono non lo so in poco tempo cioè voglio dire che poi io vedevo ieri sera con gente che si iscrivevano si iscrivivano stamattina pure un bug prima 31 poi 33 poi 34 e poi non ho più controllato dalle 2 lo dico eh lo dico a mille iscritti mi mostro e l'ho già detto non che dovete vedere quando spacco la serie nei video di fifa quando non troverò niente o troverò qualcosa devo pure cioè dietro di me c'è il letto in questo momento io posso anche scegliere di prendere un puffo che è una cosa dove tutti siediti ed è bello e buttarlo sul letto e farlo cadere e regalo potete capire ho rotto tutto quindi ho detto praticamente tutto quindi per questo video in questo video cioè per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se questo è stato lasciato 5 mi piace per il prossimo vlog che non vedetevi voi che razza di gioco horror posso scaricarmi io ne so alcuni però mi stavano anche calando la voce mamma mia mi sento Mario Bros e alcuni giochi horror appunto che possono farmi saltare dalla sedia e praticamente ok che giocherò da 2 metri di distanza e devo gridare perché voi non mi sentite che si devo ancora comprarmi il microfono e vado avanti gridando però dettagli e ripeto questo video è tutto iscrivetevi al mio canale lasciate 5 mi piace e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao